Salve a tutti amici di Youtube, sono Yotokurama, oggi vi porterò la Twilight. Grazie a tutti! Questo è l'Eldrassil. Allora, registriamo la Twilight, la sto registrando in domenica, ma il video arriverà martedì, e la Twilight, penso una delle rene più belle del gioco, tra le quattro classi, è la mia preferita. Allora, prima di tutto, combo della Twilight, no, ho sbagliato. Ah, penso che è un attimo frizzato il gioco, ok. Ok, questa è l'altra combo, ops, mi sono rimindicato di mostrare qui questa, ok. Allora, quest'arena è fisica, ve lo dico subito. Allora, potete anche far così. Allora, ok ragazzoli, passiamo alle passive. Allora, passiamo alla prima passiva del 15, che si chiama Cacciatore Talentuoso. I toglie in P massimo vengono aumentati il valore che ha poi detto attacchi con Erendil, viene diminuita. Erendil è la spada che usa la classe, se la vedete, nella combo. E aumenta i danni degli attacchi con la forza di Erendil. Quindi, fendistelle, rapica di trappole, trappole esplosive, va, semente del vento, rabbia di Eldr, si, karma annientamente, sfera del vento. Modifica tutte le spell magiche in fisica per lei, valore K-20, danno più 20 e MP più 100. Questa è la prima passiva. Allora, vediamo se abbiamo qualche mod da farvi vedere. Penso di no. Forse a parte fatality. Allora, questa classe, vi spiego subito, è, penso, l'assassin delle tre. Potremmo supponere. Questa è una delle skill. Che cosa fa questa classe? A parte che il petto... Non devo attaccare. Vi spiego subito quello che fa. Prima di tutto, la possiamo utilizzare in salto, lancia un ramo nel terreno e lancia questa radice che, quando l'avversario ci passa sopra, esplode. La possiamo fare in salto, come notate. E questa invece è diversa perché, prima di tutto, la mettiamo a terra. Sussiste una probabilità del 20% di lanciare due di queste. Le reti aderenti possono essere rimosse, premendo ripetutamente i tasti freccia destra e sinistra e le reti restano attive per 7 secondi. E questa cosa causa immorragia. Come notate, abbiamo la piccola probabilità di lanciarla due volte. Però, bambino le ciance. Poi abbiamo questa, che io ve la faccio vedere con il... con le cose. Con più mob, perché è più una spell da pulizia questa e non da boss. Eh... dai, su, ditemi quanti... se... e vabbè. Ah, ce l'è sta uno pure là. Come notate, il colpo è andato a segno. Ed è una spell da pulizia. Come è una spell da pulizia karma. Che farò vedere dopo. E abbiamo anche la mod. Poi abbiamo questa. Che io, se non mi ricordo male, chi gioca da più tempo... Io mi ricordo che questa spell era della... Della prima... della seconda rena. Però adesso è passata a lei. Allora, via le hyper. E la master skill. Poi... karma! Fortissima e... La possiamo usare in salto. Ci scagliamo verso il nemiso, che infligge il danno. Cioè, abbiamo anche una mod. Adesso ve la faccio vedere. Che... Ha il raggio d'azione. Come notate, se c'è sta più mob, karma fa più danno, ovviamente. Perché sì. E adesso... Karma... Fatality. La chiamo karma, non so perché. Poi abbiamo... Questa qui. Karma, che è un'altra spell da nuclear. Veramente forte, ragazzi. Io... Io, ragazzi, quando vi farò la build, ve la consiglio. E abbiamo la mod. Questa è la mod di karma. Ok. Ehm... Mi pare che c'è stato un'altra mod, ma non mi ricordo. Ok. Passiamo alle... Alla tua... Alla sentinella. Che abbiamo queste spell. Intanto ve le metto. Questa. Questa. E questa. Allora, passiamo alla prima passiva che è attacco... Metodico. Con un certo numero di colpi assestati... Adesso togliamo i mob. Ok. Ehm... Quando usi una skill di R&D, si riduce R&D, penso, perché è piccolo, porca miseria, R&D... Si riduce il tempo di attesa e le skill attive speciali. Le skill R&D, tipo Fatality, Fendi Stelle, Attacco Furente e Agnientamento, sono quelle che ti fanno resettare le spell. Probabilità di... Ah no, probabilità di critare e di fare il devasto, più 10% entrambi. Tempo di attesa 7 secondi. Tempo di attesa per la riattivazione 3 secondi. Passiva del 60, questa è quella da sbloccare, questa è quella che ci danno. Incrementa la cittata delle tue combo con le frecce e conferisce un loro effetto sfascia corazza. Oggi non so leggere, ragazzi. Raggio d'azione più 40, penetrazione delle difese 20%. La seconda passiva è, sostitua in un certo probabilità che le tue combo R&D siano potenziate e che ha l'acquisizione di nuovo... Acquisica... No, acquisisca di nuovo degli EMP. Inoltre al momento dell'attivazione, entro 10 secondi, i tuoi prossimi 7 attacchi diventano dei bei colpi critici con la probabilità del 100%. Probabilità di attivare il 50% rigenerazione MP 20. Dovrebbe essere questa. Eccola qui. Questa è energia natura, questa è volontà liberata e questa... Come notate, la passiva ce l'ho. Ok. Ok. L'ho fatta vedere come funziona. Ehm... A parte questa. Ok. Passiamo alle spell. Prima spell attiva è questa. Come notate, possiamo fare questa ed esplodere. Questa spell... Ha anche una cosa carina. Che vi faccio vedere. Che io ai tempi la usavo. Eh, ho failato. Come vedete, se noi facciamo le combo quelle... Vedete che lancio questa cosetta? Con questa combo lancio queste. Che le possiamo pazzare sul nemico. E poi facciamo l'esplosione. Adesso ve la spiego. Allora, lanciare... Lancia una granata di segnalazione con la quale fai esplodere all'unisolo delle reti... Delle trappole ramo. Solo dopo aver premuto il tasto della skill, detonerà la rete dei rami di Edrasil. I danni si accumulano tramite l'esplosione all'unisolo. Danno più 20%. Si aumenta. Guardate. Uno, due, tre, quattro e cinque. Poi cliccate e fa questa esplosione. Allora, passiamo all'altra attiva. Che è questa. Semplice e banale. Poi abbiamo questa. E poi abbiamo questa. Che adesso... Si possono fare in due modi anche, eh. Se in aria... Che... Al... Che non in aria. Queste due hanno le mod. Adesso ve le faccio vedere istantaneamente. Come notate... Fa così. E fa così. Questa è così. E adesso vi mostro... Una causa per l'elemento e un'altra. Tutte le velocità degli avversari colpiti si riducono del 20% per seconda. La possiamo usare anche in salto, ovviamente, eh. Adesso passiamo a... Penso alla spell più forte di questa classe. E perché mi dite... Come mai? Perché è fortissima. Prima vi faccio vedere questa. E adesso vi faccio vedere. Prima questa. Che è un debuff. Che cosa fa questa spell? È una nube... È... Una... Una nubola. Che cazzo hanno scritto? Persiste per tre secondi. Gli alleati che si trovano dentro a questa nube, possiamo dire. Subiscono il 70% di... Meno di danni. Riduce il... Del 70% le diverse degli avversari che si trovano dentro alla nube. E perdiamo due... Due consumi di energia da natura. Ops. Ehm... No. Eh, un attimo, eh. Scusate, raga, che ho disattivato tutto. Ok. Ok. Allora. Questa è il debuff principale della spell... Del personaggio. E poi abbiamo... Questa. Che... Adesso voi mi direte... Ma... Che cos'è? È la sua spell principale. Però... Non così. Ma... Così. Che non si è vista nemmeno. E voi mi direte... Quanti danni ha fatto? Guardate quanti danni fa. Adesso ne ho fatti pochi. Però... Fa danno, fidatevi. Sta classe fa un botto di danni. Poi... Passiamo alla... Alla parte trascendenza e l'hyper soprattutto. Mi pare che ce l'ho la sua hyper. Sì, eccola. Facciamo così. E... Godetevelo. Ok, questa è l'hyper. Adesso... Vi mostro queste. E mettiamo la seconda hyper. La master skill arriverà... Me la invierà un mio caro amico che è main. Di questa classe. E vi dirò... Un piccolo spoiler. Che... Faremo due video sulla Twilight. Io che la giocherò malissimo. Purtroppo. Perché non so ancora bene... Il personaggio. E lui che la giocherà molto meglio di me. Vi farà vedere come fa i danni. Questa classe. Abbiamo... L'ho pensata io. Perché... Ci ho pensato. E... E volevo farvela vedere... In due modi. Volevo farlo con altri personaggi. Ma non conosco... Tipo... Tanta gente che gioca. Che ne so. Il... Il Raven ne conosco tanti. Però tanti personaggi non ci stanno. Tanta gente che la giocano. Allora... Lo faccio io. Questo è un piccolo spoiler. Passiamo alla sua passiva. I tuoi MP si rigenerano ogni volta che consumi energia da natura. Le tue skill con trappole e le tue combo erendil... Potrebbero invigere del danni extra all'avversario. Se i livelli dell'energia da natura e al massimo la forza d'attacco delle skill attive... Speciali aumentano. Come notate... Loro... Le tre classi dell'arena... Hanno la stessa possibilità alla fine. Che ogni volta che abbiamo l'energia da natura al massimo... Facciamo più danno con le spell. Quindi dobbiamo andare in perma a cresci potere... Per fare più danni alla classe. Lei però ha un piccolo difetto. Questo è un difetto che gli do. Che carica lentamente la cresci potere. Quello è un difettone. Però è veramente il DPS delle quattro arena più forte. E ve lo direbbe anche l'amico mio. Che la gioca. Rigenerazione MP... In caso che utilizziamo l'Erendil... Energia da natura 3. Probabilità di attivazione dell'energia... Della natura 30%. E... Danni delle skill attive speciali più 18%. Passiamo a Predatore. Perché è la passiva più interessante tra le due... Tra questa che ve l'ho spiegata 50.000 volte. Ve la faccio solo leggere. E... Mettete in pausa e ve la faccio leggere. Così stiamo a posto. Incrementa il tuo attacco. Utilizzando le skill attive speciali potrebbero infiggere danno extra. Gli avversari. Le trappole della sfera spinosa. Il se... La semente del vento. Ritardo e i fendistelle. Possono essere utilizzate anche in salto. Alcune spell possono essere usate in salto. Aumentato l'attacco del 12%. Probabilità di attivazione 80%. E danno più 25%. Allora. Prima di tutto. Vi mostro le spell. E poi. Mi mostro l'hyper passiva e master skill. E poi la build. E anche la comb. Un paio di giri spell che può fare questa classe. Allora. Prima spell. Utilissima. Questa. Che è ottima. Anche per adesso. Questa. Che... Il danno aumenta se colpisci in massimo due avversari. Quindi che ne so. Se abbiamo due avversari qui. Adesso ve lo faccio vedere. Un attimo. Come notate queste spell. Alcune spell. Carichiamo un attimo la cosa. Gli servono più nemici. Tipo vedete? Qua lei fa danno. Qua fa danno. Vabbè. Vedete? Queste spell. Alcune fanno più danno quando ci sanno più nemici. Adesso. Vi mostro. A niente a mento. Che cosa fa? Erendil viene. Eh. Intrecciata con energia. Delle. Delle. Eldrasil. E tu attacchi gli avversari. Di fronte a te. Con un. Un ulteriore colpo di Erendil. Non fa niente. Però è forte. Perché. Procca la passiva. Fate così. Che comunque contro un. Multi boss. È fortissima. Se io ve lo faccio vedere. Con pochi mob. Adesso ve lo faccio vedere. Tutte le spell. Che servono più mob. Questa. Fa molto più. Danna di tutte. E poi approcca. Ricordi. Spettrale. Ricordo. Spettrale. E vabbè. Farfalla. Allora. Metto l'hyper. L'ho già messa. Passiamo adesso. A ricordo. Spettrale. Che l'abbiamo vista qui. Adesso. La spiego. La forza di Erendil. Viene. Sprigionata. Grazie a un antico. Da. All'antica. Dottrina. Quando utilizzo. Una skill. Di potenziamento. Anche Erendil viene rinforzata. Erendil si allunga. E con una certa probabilità. Spara la sua energia. In caso di per colpo. Con Erendil. Infligge danno extra. Potenziamento. Di Erendil. Fatality. Farfalla. Attacco. Furente. E annientamento. Queste sono le tre spell. Che dovete usare. Per proccare la passiva. Che cosa fa? Potenziamento di Erendil. Probabilità di. Erogazione. Di energia di Erendil. 50%. Per cento. Attacco. Più 10%. Durata del potenziamento. Di Erendil. 20 secondi. Che cosa succede? Questa è la passiva. Eccola qui. Quindi. Avete anche la passiva. Per farvelo capire. La potete usare anche qui. E la potete usare in altri modi. Poi. Passiamo a trappola. Per tendere una trappola. In segreto. E a piacimento. Dopo aver utilizzato. Skill con effetto. Di stato. L'attacco. Successivo. Causerà danno più. In gente. Il raggio d'azione. Delle trappole esplosive. Della trappola. Della sfera spinosa. E della sfera del vento. Aumenta di dimensione. Quando utilizzi. La skill. Con trappola segreta. La terza trappola. Invige. Il danno più. In gente. Quando utilizzi. Il ritardo. Il tempo di attesa. Delle skill. Con trappole. Si azzerano. Si azzerano. Se. Se si utilizza. Una trappola. Durante il ritardo. Il tempo di attesa. Delle skill. Il tempo di attesa. Si riduce. Della metà. Quando utilizzi. Una skill. Del periodo. Mortale. E la forza. D'attacco aumenta. Per un. Determinato. E determinato. L'asso di tempo. Trappole segrete. Trappola esplosiva. E trappola. Quella della sfera spinosa. Semia del vento. Pericolo mortale. Rabbia di Eldrassil. Sfera del vento. Freccia. Trappola. Fung. Funghetto. Velenoso. Spora dell'ira. E nientamento. Raggiudazione. Trappola esplosiva. Quella della sfera spinosa. Semia del vento. Più dieci. Dando nel terzo. Trappola. Trenta per cento. E forza d'attacco. Dell'ultili. All'utilizzo. Dello skill. Periodo. Mortale. Più dieci. Durata. Venti secondi. Allora. Vi faccio vedere. L'hyper. La seconda. E poi. La master skill. Ok. Adesso. La master skill. Ok ragazzi. Adesso vi faccio vedere. La build. Di questa bellezza. Allora. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Il debuffino. Le sfere. E secondo voi. Cosa andrà. Anche a essere utilizzata. Come spell. Esatto. Proprio fenice. Allora. Per lei. Solo una. Mod serve. Fendi stelle. Adesso vi mostro. Spero che mi riesce bene. La. Il personaggio. Allora. Accresci il potere. Uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Questo è un giro di spell. Del personaggio. Abbiamo. Attivato. Ricordo. E pericolo mortale. Che sono. Uno. Due. Se vogliamo possiamo anche. Proccare questa. Poi. Questa. 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 E poi. Facciamo. Questa. Questa. Poi possiamo fare anche karma. Se vogliamo. Anche karma. Però non fa tutti questi danni contro un singolo mob. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Se vogliamo possiamo farne un'altra. Me ne ha dette tante cose. Questo mio amico. Vedete? Abbiamo già le spell. Abbiamo la volontà. Abbiamo la cresci potere che è ancora dura. Uno. Due. Tre. Quattro. E poi possiamo fare anche questa. Che comunque. Notate. Faccio anche più danno. Ho fatto più danno. Stranamente. Bene. Il video finisce qui. Spero che il video da Twilight vi sia piaciuto. Commentate. Iscrivetevi. E noi ci vediamo un prossimo video. Bella ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie.